Vede Formolo, oggi corri sulle strade di casa, che cosa hai in mente? In mente ho tante cose, volevo ringraziare tutta la squadra che ci fa correre sempre queste belle corse, tutti gli organizzatori che organizzano pure quest'anno una corsa così prestigiosa, speriamo di onorarla al meglio e di ottenere il massimo di risultati che ha nelle gambe. Il Paglio del Reciotto ha un percorso insidioso, tu conosci queste strade, quale potrebbe essere il punto chiave? Ogni metro potrà essere decisivo perché è un percorso molto selettivo, ogni metro può essere decisivo perché non tanto per chi vince ma per chi non potrà vincere e alla fine togliendo tutti quelli che non riusciranno a vincere riuscirà il vincitore.